Il giorno in cui ho piantato questo cartello, ero convinto di aver giocato bene le mie carte. Credevo che nessuno avrebbe più potuto distruggere questa parte di foresta. C'è una regla, c'è una legge, bisogna applicarla. Quindi, se il fiscale è ordinario, non la applicarono fino a oggi, a chi devo chiedere che applicate la legge? Io non discuto della legalità di tua riserva. Io discuto se loro entrano in tua riserva o no. Il problema è che chi arriva prima a prendere la posizione della terra, ce l'ha. Come il Farwell. Legalmente è così oggi. Con la differenza che c'è una decisione politica, cosa vogliamo fare? 5.000 ettari ancora di bosco buttato giù per mettere 5.000 vacche o vogliamo mantenere una riserva? Non c'è nulla. 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 Especialmente il territorio di Yepoca. Io, individualmente, sono il migliore produttore di soja del paese. E ora che la popolazione mondiale, dentro di 40 anni, può ottenere 9 mil milioni di abitanti, la fauna deve essere dato. Abbiamo che produzione, 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 più o meno costi. Fabio Pelotto, viste, sta pelato. No, J, vale la pena protegere 5 mil hectare. Vale la pena, Daniele.